buongiorno quel maltempo brutto brutto e niente oggi mio piccolino fa cinque mesi amore cinque mesi tu cinque cinque mesi tu sì sì sei contento sì allora mi preparo la colazione e ancora tutto in silenzio allora ragazzi mi sono alzato con tutti i presupposti per iniziare la dieta ho fatto la colazione light mi contatto mia madre danni ti ho preso i cornetti fuori la porta amore è fatto gli auguri a brando per i suoi cinque mesi dall'ibacetto auguri 5 mesi di te sì ma perché non va mai fu i problemi con la messa a fuoco di tutti i telefoni tutti allora vediamo la nonna che ha fatto alle 6 ore sono mettiamo la nonna che ha fatto che ha fatto la nonna per chi per tutti i carri wow mamma 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 che buono ma tu vuoi i carri sono sì all'ora cinque mesi di brando apriamo il regano vediamo cinque mesi vediamo 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 che bello penso che mesi avete preso allora sì bello sei mesi e questo perché di calcola che non lo mette ora wow che bello che bello e visto che bello per brando allora tocca ad emma vediamo a emma che cos'è wow che bello non c'è niente più quello che cos'è che bello ammo dici grazie a tutti alla nonna no no sono di enna di sono le mie di una sola una sola voglio questa arancione ma dobbiamo soffiare la cantina per brando 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 soffi non so ma tu stai che sbattinella auguri di nuovo di nuovo di nuovo snubi auguri che bello la volpe state colorando la pancia bello brava e nonno che sta colorando ok non urlare amore ecco qua mamma mia vedi nonno come sta dipingendo wow eccoci qua i miei sono andati via e nulla oggi domenica molto casalinga non piangere amore è nulla noi vi salutiamo vi auguriamo una dolce notte vero amore è ancora un po pressino ma noi vi salutiamo già anche perché emma lascialo stare mia figlia è una piccola peste e domani emma lascialo stare e domani è lasciato domani inizia una settimanuccia intensa per noi perché domani emma ha la prima visita dal dentista e ovviamente parlerò anche per la mia situazione quindi domani andiamo insieme dal dentista vi auguro una dolce notte e un bacione e domani saluta ciao ciao ciao